Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium, stasera si affronteranno Ordullo Celeste contro le Art Garden Le squadre fanno il loro ingresso in campo e si posizionano al centro del terreno di gioco Momento di fair play tra le due squadre Il direttore di gara di questa sera è Gigi Dalisse che chiama a sé i due capitani per il sorteggio della palla del campo Tutto pronto ragazzi, buon divertimento Iscriviti al nostro canale 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 Iscriviti al nostro canale